Avviso ai signori passeggeri, il prossimo treno per Mezzo Rock è in partenza dal binario di Radio Bayano. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! 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 questo genere però mi è piaciuto mi sono detto che sono ritagli ascoltato da giorni quindi un certo momento tutto ma se che c'è cambia di te vediamo questa cosa lui il batterista ancora non ce l'aveva quindi siamo partiti con l'idea di organizzarci e poi strada facendo l'abbiamo trovato diciamo che abbiamo chiuso i certi siamo ritrati come eravamo partiti l'anno scorso nel senso che scusami di rispondere c'è stata in realtà un'occasione in cui avevamo un live programmato e il batterista cazzo è sparito due giorni prima del live quindi dice vabbè facciamo una lezione acustica questi pezzi sono molto effettistica sono pochi pezzi che in acustico secondo me possono rendere bene e soprattutto vanno preparati molto bene perché non è semplicemente che mi suoni uguale con l'acustica e fatto quindi dovevamo fare staserata e vabbè facciamola vediamo quel che mi viene con mezza prova fatta io e lui poi siamo stati salvati da un bagno rotto del locale che quindi ha dovuto annullare la serata quindi non l'abbiamo fatta la serata non abbiamo nulla da noi stato annullato dal locale arrivati problemi tecnici e quindi ci siamo salvati tra virgolette però appunto l'idea di restare in due è difficile soprattutto perché c'è una certa cattività nei pezzi di un certo ritmo forte che perderebbe tutto senza batteria di così registrati a bene secondo sono cose che feci con la prima line up però i pezzi di vita un po più motivi leggeri di rientra anche nel nel mood di quello che voglio trasmettere però live questo nello lo dico ieri che non ho percezione però è quello che mi dicono agli altri quando ci sentono le live dicono è proprio un'altra cosa ci sono io che metto la cazzina sappiamo che tutto merito a parte proprio un fatto per i pezzi risultano proprio diversi live quindi con la batteria forse iscrivete molto più sterminato più freddo più simile mare a quello registrato il spettacolo che possiamo dare e poi ci vorrebbe poter chiaramente qualche miglioramento alle basi che non vediamo per una base dovrebbe una macchina ne perderemo sicuramente in ambas e sbatteremo sicuramente anche come sbatteremo immagini sarebbe strano vedere noi due nessuno direi sembreremo due che si umana il tuo conduttore non questo è bassista io direi che non c'è perché non ce ne sa ne abbiamo però sono anche la batteria c'è una cosa ascoltiamo qualcosa dei ragazzi giusto per farci un'idea sul cosa suonano cosa non suonano è questa come famosa cover della sigla di haidi ce la sentiamo il nostro non l'abbiamo attraverso voglio dire rispetto verai l'animazione giapponese adoro che ha una cover di haidi non lo so pensavo fosse la vostra vabbè me la sentirò dopo per fatti cosa c'è cosa ci fate sentire ragazzi partiamo con l'abbin allora noi ci sentiamo l'abbin e torniamo tra qualche momento che non vuol dire un cazzo un cazzo Grazie a tutti. Grazie. 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 in fratiana vi sono due videogrammi che significano fiore e fuoco, poi insieme significano fuochi d'artificio, poi è stata una storia, mi spiego bene, ma a mano che l'avrate, c'è tutta una storia perché poi in realtà insieme sarebbe fiori di fuoco e c'è un motivo per cui questo nome è diventato fuochi d'artificio, però l'idea è bella perché comunque se pensi quando il fuoco si apre è veramente come se fosse un fiore rinfuocato, l'idea è quella di dare questi due estremi, il fiore che è un qualcosa di delicato e il fuoco è un qualcosa di dolente che ci strigge, quindi non è anche nelle canzoni tematiche, non è anche nella musica, c'è questa ambivalenza e infatti mi ricordo un altro ragazzo che sonava con me quando gli chiedevano ma voi che musica fa? Lui mi ricordo, diceva sempre, immagina i fiori che anche alcuni si incazzano, mi dà questa cosa, e questo fiore e fuoco simboleggiano queste due cose, e infatti me lo sono, mi piace fare anche un disegno, me lo sono anche tatuato, io ho la schiena questa cosa, così mi rimarrà per sempre, sia il nome del gruppo per questo film, e niente quindi, e invece Spin Rock? Spin Rock, questo dirà sempre, anche da quel discorso, mi chiedono ma voi che fate? e allora all'inizio alla spiegare, infatti all'inizio... Scusami, la domanda più brutta che ti costava fare, che genere fa? E lo so, io non so mai che rispondere, alternati, alternati, esatto, si, ho detto la stessa cosa agli altri, e tu alternati, che porti in porti in cazzo, va bene per tutto, alternati per vero, toglierà le botte tutti quanti, però all'inizio ecco, il problema del genere è che poi è una domanda di Egitto, è normale, uno ti chiede che fai, però ovviamente se fai rap, se fai rap e c'è sei già più inquadrata, allora la diventa più facile, ma che fai in genere, appunto, un po' diverso è diventata difficile, e io mi ricordo all'inizio, appunto, proprio perché era musica cupa, alcuni riferimenti, io all'inizio ci abbi faccio una specificità che c'era, però questi quei miei accorsi che mi imbrigliavano in situazioni che non erano mie, ad esempio mi portavano una serata, in cui si aspettavano che noi facessimo Dark, perché io dissi abbi facciano ok, ma andiamo là, invece c'era la serata, erano tutti Dark, il gruppo perché non era Dark, capiamo noi, belle e po' distruzioni, cose che non c'entravano niente, allora poi la capisano dove trova qualcosa, perché non posso, non posso dire se è un po' questo è un po' qui, poi andai per me, poi c'ho riflettito, e io penso che con la musica che facciamo non voglio esprimere un genere tecnico, non voglio dire sono grandi, sono rock, far drop, no, perché trovo sempre limitata questa cosa, quindi ho pensato, siccome hanno un filo conduttore, una sorta di malinconia, una sorta comunque di malessere, ho detto il mio genere dovrà esprimere questo, cioè il mood, e quindi ho cercato questa parola e viene da romanticismo, questo disagio insomma, essere interiore che lo esprimi, e quindi ho deciso di chiamarlo esprimere rock, comunque è rock, però diciamo vuole trasmettere, non è che non voglio essere presunto, come dire, pretenzioso, presunto, non è che non voglio avere nessun riferimento letterato povero, però nel senso che comunque vuoi esprimere un sentimento o un qualcosa, piuttosto che un genere musicale, così mi sono anche levata a lei, non sai che cosa dire, ti inventi una parola nuova, però hai visto quante cose, hai visto Carlo quante cose abbiamo scoperto, in soli due domande? si ma voglio che ti stai atteggiando si o ti stai atteggiando e stai dicendo che Giovanni è profisso no no anzi ma dobbiamo arrivare in villa questa questa razzissima no mi sono sempre molto interessata visto che ne abbiamo fatto un incenno parliamo delle influenze io vorrei sapere prima le vostre influenze individuali e poi come avete fatto a trovare un equilibrio tra le vostre sono di carte preferite allora inizio io ho influenze che sono piuttosto diverse da quello che facciamo dallo studio le mie influenze principali sono negli anni 90 che è quando ero adolescente e quindi ci sono in testa in urbana e poi un po' tutti i gruppi dell'epoca in anziosi, stasangarde, la scena grange e tutto quello che c'era in quel periodo fino alla metà degli anni 90 o ingrassata da maiali e che sono a spina anche loro il punto di incontro qual è è quel discorso della malinconia della tigre male che il grange me l'ha messo dentro è finito peggio cat cobain o axelrosis questa è una domanda un po' cattiva un po' cattiva però dai mi dicono lui c'è stato il concetto di axelrosis no 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 ci devo stare ah tu l'hai perso però dicono che sta cavando bene nonostante è un grande cantante e quindi niente queste sono più o meno le mie influenze di base fermo restando che ho sempre apprezzato parecchi tour anche se non li conosco approfonditamente come dicono i giorni e i giorni di vision sono i due gruppi che si avvicinano a giorni delle mie influenze che però ripeto non fanno parte della mia formazione di base quindi probabilmente il mio apporto nella sonorità attuale degli Ana B sposta un po' il tiro in una direzione leggermente diversa mantenendo la sua intenzione le sue idee e il suo mood probabilmente ci danno quella spinta leggermente diversa infatti non voglio suonarmela e cantarmela da solo questo diretto è lui il cantante, è il chitarrista però riporto quello che è stato detto che il basso è molto presente proprio come suono come sonorità come impatto negli arrangiamenti attuali rispetto un po' di più al passato proprio con questo tipo di influenza ti sei limitato a fare il conto ho seguito quello che lui quello che erano le sue idee declinandole secondo la mia personalità il mio modo di suonare e le mie influenze vediamo le sue influenze che sono quelle che più pesano in questo progetto diciamo quelli già citati in realtà siccome comunque penso alla formazione nostra bene o male si fa nel periodo della adolescenza come se al liceo parli con gli amici eccetera più o meno mi sono ritrovato come lui in pieno periodo grunge quindi in parte per esempio del grunge apprezzavo abbastanza il nirvana a un certo punto venne distaccavi per una sorta di anticonformismo dell'anticonformismo nel senso che vedevo tutte le ragazze in un liceo tutti quanti che iniziavano a fare a seguire il nirvana che non so solo perché cacperano le ragazze eccellenza di qualcosa ci sta che non va non so questa cosa mi dice una sorta di repulsioni comunque in quel periodo ci stava di tutto io venivo con cascata parecchio punk nel metà anni 90 c'è stato i rival del punk erano tornati c'è la nuova onda del punk californiano i green day off mi aveva attaccato molto a quello i primi green day sì degli anni 90 poi mi piacere noi lard rock i cancerosi ierosmith diciamo in realtà poi quello che mi è piaciuto perdere un po' più dopo perché poi mi inizia a appassionare uno dei gruppi che penso è uno dei miei preferiti in assoluto che è una delle influenze pure che si possono ritrovare che sono i Smashing Pumpkins perché poi inizia quel periodo in cui c'è veramente l'alternative non sai inquadrare i Smashing Pumpkins non sono bravi non si danno all'inquadri e per me quelli sono un esempio perché brava sono altri ma non li puoi e ogni album è diverso dall'altro e per me loro sono stati proprio dei maestri da là in poi per altre cose mi sono iniziato a appassionare anche i Jure poi a Geo Division eccetera sono partito alla Lard Rock il Punk eccetera e poi arrivare a queste coni un po' più alternative e quindi alla fine per arrivare poi fino agli inizi anni 2000 un gruppo che molti mi pare a schifo ma altri apprezzano un sacco una delle più grandi influenze di me sono i Verdeno perché infatti nei suoni io poi alla inizio a suonare e mi inizio ad andare a ricercare i suoni non tanto del Dark della New Wave eccetera ma sia di Billy Gordon Smashing Pumpkins anche tu poi inizio a fare un altro debut anni fa e sia dei Verdeno perché solo lì non ha cercato i pedali di cose all'epoca c'erano i forum si andava se congelati vanno a cercare ma che pedale uno è strumento per far sta cosa che si fa non c'erano wikipedia non c'erano wikipedia su youtube e c'erano se foto fatte da tizi io l'ho visto in concesi ho parlato gli occhi si erano le proprie cose tu le vedi da vicino e quindi iniziai a la la comprambe un'altra scena e da là in poi non mi so più fermato penso che ormai diciamo che non mi soffre molto la gas di avere se porti in casa e adesso c'ho pedale e mescola tutte le parti si e la sua pedale lì era è un po' più grande di essere una gattara e mi porto solo a metà che il resto sta a casa di pedale comunque il suono viene da là penso molto da questa alternativa anni 90 questi gruppi alternativi italiani anche gli after out e io ho una diapro non dico precisissima ma abbastanza so cosa voglio da su infatti in parte di questo ne abbiamo discusso e mi sono trovato bene con lui perché lui è un elettrico bassista che va il sonenkin suona beh io ho una pedaliera di sei pedali sono un po' tanti una parte di questi sono suoi se in questo momento ci fosse domenico avrebbe avuto un attacco di me che mi avrebbe colpito non ce ne vedo gli adatti per un giudizio mi sembra di sì incredibile infatti una delle prime delle prime cose che ho fatto e che in genere facciano prende un bassista gli do tipo tre pedali standard gli do e dico senti questi i bassi di avere più adesso su 1 quindi e va poi c'è un'altra cosa vediamo che va inizia aveva anche esagerato un paio poi le ho tolti perché non riescivo a trovare il suono che mi piacesse da quelli però sì la metà della mia pedaliera è sua la base la poi il resto poi ce l'avevo su chat però diciamo il suono io ho un più di quello che voglio lì lì comunque la cosa beh ci siamo trovati che non è che dicevano ma che no diciamo bello bello lì è proprio l'ho trovato in questo punto di incontro abbiamo avuto anche in questo una scelta del suono perché non è stato refrattare a questa o no anzi l'ha sposata in maniera come l'ha mai sposata nessuno è proprio così vai 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 scherzo di sapere qua vai c'è alcune parti in cui io ci ho acceso più o meno tutto ah sì perché poi dopo lasciamo a volte nei live chiediamo il pezzo e lasciamo tutto acceso quindi facciamo feedback c'è il basso che fa feedback è una cosa stupenda io non lo so ero tanto mi sentivo solo ma questo basso non si suona come un pianoporte non si suona più come un basso non fa niente bello dai ciucci dopo questo elenco sentiamoci qualche altra cosa dai così prendiamo una bella pausa e non te la dimenticare segnate la subito non servitela per no parliamo sempre abbiamo bisogno neanche voi di respirare ogni tanto sai come la genetica umana e questo bisogno di essigeno ci sentiamo fade away si sentiamo felici vai oppure ic e come si dice ice action poi si sentiamoci una fede away mi sentiamoci quindi si sentiamo fade away e torniamo tra qualche momento che ricordiamo al nostro pubblico che non vuol dire mai un cazzo tra qualche momento però io lo dico in memoria di Domenico che ci ha abbandonati per sempre non ci ha abbandonati non ci ha abbandonati All the mistakes in my life I'm passing by my life I take it on the lane I was so young at the time Nothing seems to leave And it fades away Fade away Fade away Fade away Away from me Fade away Weederspain Fade away Weederspain Fade away Weederspain Weederspain What you say I'm yours I can't believe those words I don't trust in love Love won't trust in me The leaves are falling down Hearts and smoke Like my memories Peelick on the ground Under the ground Scream in south Grazie. 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 Ma innanzitutto parto sicuramente dalle tematiche, per quanto spesso su alcuni temi possono essere universali, ma comunque sono anche abbastanza personali, io penso che già questo le renda abbastanza umili. Comunque non siamo un gruppo politizzato, non parliamo di società, fondamentalmente sono cose che scrivo perché vengono da me, sono sentimenti, sono malesseri, sono rabbia, sono derisioni, sono cose mie, questo è un fatto personale che penso che non le vorrei indicare a nessun altro, ma questo ovviamente penso che lo faccio tutti gli scrittori, tutti i cantori, eccetera. D'altra parte, proprio perché abbiamo messo insieme tante cose così diverse, io penso è già la difficoltà delle persone quando a volte ci ascoltano di capire bene o male che cosa siamo, diciamo che è un punto di partenza, perché se già mi dicessero, vabbè ma tu fai questo, io direi, vabbè allora forse sto sbagliando qualcosa, perché mi sto legando a qualcosa, ma siccome in realtà è difficile trovare proprio, se una volta cosa mi legano, erroneamente per esempio io ci ho, mo ci vuole tornare a fare gli smash in pambi, quindi se faccio, mi dicono, si attaccano alla voce, alle cene, vabbè ah c'è la voce molto delle smash in pambi, ok, ma in realtà fondamentalmente, a parte dell'amore per il big maffo, per qualche altro effetto, ma non ci stava niente, io non ci metto niente, sono uno dei giri, sono uno dei giri, ma è solo una parte, magari la voce, magari ci stava la voce così, poi che ne so, dei keyboard rock, ci stava quella manicone, eccetera, ma musicamente non c'è niente, questa cazzima che ci mettiamo non ce l'hanno, cioè loro vanno su quel registro, che io amo, io adoro, però a parte va in un viaggio, che però è quello, e invece possiamo salire, possiamo riscendere, possiamo ritornare, ma non perché sia un pregio, assolutamente non mi metto mai a parlare dei nostri salari, però per dire, la differenza è questa, in realtà, è difficile individuarci. Sì, poi io penso che non sia mai un fatto scientifico come gli ingredienti che vengono mescolati, un po' come in cucina, prendi vari ingredienti e poi la carota, non sa, puramente di carota quando la metti nel minestrume, metti insieme le tante cose, e la sensibilità personale poi fa la sua parte nel mescolare tutto quello che un po' hai sentito, tutto quello che ti è piaciuto, a volte anche quello che non ti è piaciuto, entrare in questo mix, e di conseguenza poi mettendo tra l'altro due teste insieme, anche se la sua è quella che infusce di più, perché i pezzi li scrive fondamentalmente lui, poi alcuni quando io sono entrato nel gruppo, erano anche già completamente arrangiati, quindi come già accennavo prima, li suono secondo la sua idea, ma con la mia personalità, ma c'era già l'arrangiamento, i pezzi che stiamo scrivendo adesso, che lui sta scrivendo adesso, che stiamo arrangiando adesso, magari ci metto un po' qualcosa di più di mio, e quindi mettendo le due teste, le due sensibilità, le due personalità, nasce questo mix in maniera molto spontanea, senza dire no, questo non va bene perché non rispecchia Iana B, questo va bene perché ci piace. La cosa curiosa è che appunto, anche avendo background diversi, però ripeto, spesso ci ritroviamo a leggermi a suona le stesse cose, quando stiamo suonando insieme, stiamo apriando, stiamo arrangiando, poi ci troviamo, ci siamo trovando, questa direzione che teniamo, la stiamo portando insieme. L'ora non mi ha mai detto, non sta cosa che stai facendo, mi fa cagare, ma così come ad esempio a lui, cioè può esserci un pezzo che piace più rispetto a un altro, mi dice, io riesco a questo rispettare, così a me magari, per aspettarsi al giro, forse a giusto una cosa minima, ma non c'è mai successo di fare, cosa c'è una contro voi, che io mi devo tenere un giro su, perché non mi piace proprio perché, oppure lui, ma però mamma mia, questo vero è un po' brutto, no, comunque ci stiamo trovando abbastanza, ci stiamo trovando bene. In maniera abbastanza spontanea anche. E poi comunque è nata anche un amicinale, è nata prima ancora il gruppo, infatti anche proprio noi ci siamo trovati bene, anche come personale e l'umano, quindi condividiamo diverse cose e questa cosa ci sta aiutando, anche perché probabilmente adesso ci troviamo qua in lui, dopo tante avversità, mi hanno passato insieme. Sì, ma se è lui, ritorno un attimo al discorso di prima, sulle cose ci rende diversi, vi faccio l'esempio quando a volte mi dicono, ah però sai, mi ricordi un po' i turo, ok, va bene, i turo sono dark, ok, perché io feci il discorso e quando mi ritrovai una serata prettamente dark, fondamentalmente un pesceford non era quello, quindi che significa? E' nata anche se mi dico una cosa, ma non sono mai, non sono inclassificabile in nessun genere, non faccio hard rock, non faccio stone, non faccio metal, non faccio fan, non faccio niente che possa essere messo in queste cabico io e quindi sono anabbi. Spiro, 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 che si volete, il pedalus, parliamo invece delle tematiche, visto che abbiamo più volte citato queste tematiche, ne abbiamo ascoltato già due pezzi dei canabbi, l'Iberin e il-Wade. però non mi chiedono queste cose perché mai sono abbastanza tacitino però però l'immusia della mia musica piace parlare era un'occasione che allora sono come dei figli esatto è vero anche dei parti comunque no allora cosa parlo del primo pezzo abbiamo sentito labili a bella abilato ovviamente banalmente una metafora che io mi ritrova il ma come mi trovo spesso in un punto della vita in cui sento quel peso che se sbaglio scelta mi ritroverò sempre allo stesso punto magari c'ho qualcuno che mi sta bloccando oppure sono delle paure che ho sono delle degli angoli non riesco a svoltare sono delle volte non riesco a fare sono tutte queste paure tutte queste catene che non abbiamo che a volte scusate ti portano la vita e quindi il pezzo in parte parla di questo di questa persona in questo labirinto ea questa voce che gli dai suggeriti dice guarda non portarti indietro svolta l'angolo vai avanti prosegui gira a destra a sinistra però se se avrai sempre paura se non hai il coraggio a affrontare tu rimarrai sempre a girare da solo su te stesso e la tua vita non svolterà mai il testo parla di questo c'è una piccola parte finale che fa un un attimo di polemica non so se chiamarla sociale o così in cui dico che alla fine ho trovato trovo muro dipinto dipinto del sangue dipinto del mio sangue a voi non è mai interessato neanche se fallisco e io sono qui che continua a girare intorno intorno perché fondamentalmente in questa parte qua ci ho voluto anche quello che rappresenta un po parte della mia generazione siano in queste condizioni ma comunque parte la mia generazione di cose che era abbastanza è stata bruciata non sono pazziati io sono come ci sono nato nel mito della famiglia della della vita già inquadrata dai miei genitori vai studia laurea di troverà una vita di contraria la casa c'è quello che sembrava tre spot e invece non è stato così è stato veramente tutto il contrario di tutto ma non penso sia stata colpa mia perché mi sono ritrovato un mondo che non hanno dato consiglio e quindi alla fine la brink la parte finale incazzata tutta la parte di questo vale probabilmente il musicale serie quello che dice la parte più rapida ragazzi comprare il big off se non potete scrivere la cattiera la sporcizia un po prendere con la perché scusate il termine le parola no però è la mia notte sanitario devi sapere che qui a metro rock non come i programmi da omosessuali tanti amici omosessuali e tanti amici gay e neri comunque non come quei programmi da chicche ma qui è indifferente eccetera eccetera che passano su radio baiano qui a metro rock ci sono solo ed esclusivamente due regole uno non si può piacere mi dispiace mi spiace non ti tengo d'occhio bisogna dire almeno una parola certezza vabbè allora a questo punto mi raccomando il padre eterno e gli animali ci devono stare tante parole in mezzo del cane va bene va bene va bene la realtà è che probabilmente anche la madre questo programma vabbè a questo era nato nico non l'ho detto come fare vuole ascoltarmi per paura di questo non le ho fatta dire riferimento che sia qualche parente si stavano ascoltando non ti preoccupare tua madre potrà riascoltare la replica che pubblicheremo sui nostri canali io invece ero stato aspettato con giugnante perché mio figlio mi ha chiesto il link per ascoltare quindi non so se adesso mi sta aspettando in diretta o mi vedrà è differita però ho 11 anni quindi devo ma in realtà non bene lo sai meglio lo sai vado bene lo sa bene e a presto usate se non mi dimentico faccio un saluto a una coppia se non mi dimentico la ventisattina i miei amici che stanno a berlino saluto paolo e teresa ci stanno ascoltando da berlino perché l'hai collegata a differenza a differenza di tutte le altre radio noi possiamo essere ascoltati tutto il messaggio e quindi già dalla germania non ha avuto tempo di seguirci stasera la lega potrà seguirci da domani perché la replica verrà forse non avete questo mi sto portando bene ci andremo anche bene il suco di frutta e multivitamini quando dire questo fatto un è molto più schifo quando a bomba sull'argomento di prima allora in realtà mali si deva le strofe ecco qua viene la parte proprio il pessimismo di qui sarà sarà no e vabbè ma la fine parani ci sono quei momenti in cui inizio a fare i conti con la tua vita quello che hai fatto quello che sei e quello che che farai e magari ci sono anche dei ricordi e le cose che vorresti che sbiatissero che andassero via dalla memoria quindi crede comunque togliersi cercare di mandare via tutti i pensieri le delizioni i fallimenti che hai avuto e cercare di andare avanti alla fine si è abbastanza pessimistica un pezzo se vi traduco è abbastanza sì penso che alcune parti potreste passare la notte a pianto io mi ricordo una volta stavamo live il mio bassista precedente non si era mai ascoltato non si era mai letto bene ma fammi leggere e io l'ho passato tutti tutti insieme bene e buono fischi che mi abbraccia mi fa giorni la vita è bella mi fa giorni la vita è bella passerà è pesante è un pesante però a me piace ascoltare le spiegazioni dei brani a chi non piace spiegare i brani a chi non piace no 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 invece a me sì perché perché è una cosa il fatto di cantare in inglese in realtà mi protegge non è solo un fatto medico ma anche un fatto mi protegge proprio perché sono fatti intimi cantarmi mi darebbe fastidio denutarmi in quel momento come dicevamo a Napoli ci sto dico crede ma lo fai da lui ma che bambino che salendo è difficile e poi dall'altro la parola ripetuta tante volte in italiano e là eccetera per me perderete un po' di valore invece adesso continuo a emozionarmi e comunque devo entrare la cosa che devo dirla inglese è pensare al significato e là non mi svilisce il significato e mi da ancora emozioni però mi piace spiegarlo perché ovviamente penso che tu in due persone ti ascolta ma vai bella pure la persona sente tre parole quindi mi ha anche piacere la cine spiegato nel mix della musica quindi spesso non esce fuori tanta da comprendere infatti mi sono mangiato una grandissima influenza che ho che tra l'altro c'ho ma neanche si sente sono in alcune parti dello sciolizzo non so che conoscete questo genere ok sempre venivai agli anni 90 io sono partito del genere e per esempio da là ho preso mi piace molto questa la voce soffusa spesso sono donne che cantano con lei che riverbe enorme la voce non sovrastano agli altri strumenti e poi vabbè riverbe e palla sulle gitarre possiamo fare la rite d'alisa proprio l'opposto che viene fatto più invitato di solito più invitato quando si fai il mastering quando si registra in solito la voce sta sempre più e invece si a me piace il contrario è giusto così secondo me perché poi quando vai a seguire un live ti fai pensi in modo di solito la voce non sovrasta non sovrasta del titolo giustamente poi c'è chi bisogna comunque capirlo cosa ti dice ebbè certo poi soprattutto se canti l'italiano punti a dare un messaggio più diretto a tutti di voi che la voce stanno po' di più anche diciamo anche per in italia il messaggio che viene trasmesso tramite musica non è poi così diciamo che se uno te lo perde non è che questo per quanto riguarda il mainstream esatto nel underground abbiamo tanto il underground italiano a voi cosa piace cosa ascoltate e dire che è verbena non è verbena è verbena e nel underground è già più già più prestato diciamo più prestato siamo stati un gradito sotto gli after hours ma solo perché after hours sta quello che ha fatto ho fatto un po di marketing oltre a fare delle canzoni però penso a me ferita italia vera carico poteva venire no ma era gente come si dice nazisti dell'underground ce l'hanno avuto lui però io sono contro i come si chiamano i talent però lui a un certo punto non mi ha fatto bene una scelta che si fa la domanda era una cosa grande io ho del mondo campano apprezzo molto solamente bianco che gli ultimi anni stanno veramente facendo benissimo che abbiamo contattato venite qui da noi dai sasio vieni a radio baiano mamma io faccio una vita sana il bello del seguito grande che non c'è quella distanza enorme non c'è la barriera quindi scende dal palco che ha suonato e ci parli e parli di quello che ha suonato ma anche di tante altre cose che si diventa amici e questo poi contribuisce anche a aumentare l'influenza del del circolo artistico diciamo e musicale che viviamo poi c'è un altro un altro gruppo dell'andogiano di sempre campano che sono i blu di meridiane che sono venuti gigi bucarelli è un grandissimo amico è diventato un amico dopo che l'ho conosciuto come nei fronti e proprio qualche giorno fa che mi sono più insieme ma si diciamo che il progetto si sta rimaneggiando che gli ultimi bene sono finiti ma non batterista che li ha presi non usero l'espressione araba felice perché mi ha detto che gli eravamo detto in mille detto cosa sembra quasi che ti stiano sfottendo di vedere questa cosa però si sta un attimo cercando trovando non cercando perché piatta già delle idee ben chiari Gigi è un grande artista e ha delle bellissime idee e ha anche idee molto chiare su quello che deve fare anche lui mi piace molto e lo seguo con passione Sì, un gruppo che io apprezzo moltissimo di Napoli sono i Stellariani vabbè loro stanno in giro penso ma un'ora di una festiva a meno metà degli anni 90 in giro da un sacco e vabbè c'è una video di come di conobi e noi eravamo che era un po' quelle prime serate, ho stato il campione di una serata alzella e mi ricordo raccomando se mi stasso per fare l'alzella perché io all'epoca non sapevo cioè sapesse l'alzella, non sapevo chi fossero tra l'altro abbiamo quella sera dove vi parlavamo dei giorni vicemi su e mi ricordo che il proprietario locale mi chiamò e mi disse vieni ah perché io ho mandato le demo vieni ti faccio tipo perché le demo non le può mandare chiunque però che ne so di come se ne dava il video guarda questa cosa è una realtà piacca, disse almeno in assoluto c'è avuto la cosa che si mette lì a perdere e mi sono la testa a noi, andammo e lui mi dice senti la verità ti l'ascoltate o non l'ascoltate perché qua sono piena di idee però l'ascoltato questo ragazzo che è un caro ragazzo assoluto in musica ha detto vabbè tagliamo la possibilità perché gli sono piaciuti e lui ha detto bene quindi ci ascoltò e lui ha detto ok vieni a farla, andiamo a farla, e poi da allora ci siamo incrociati qualche volta poi la roba si stava a provare e poi dopo capigliera mi andai ad ascoltare un po' di cose mi piace moltissimo perché loro mischiano in maniera come piace a me, in maniera diversa non lo faccio io, io ci aggiungo forse qualche altra cosa, siamo comunque diversi però loro veramente fanno uno scioghezzo stupendo, cioè che loro infatti loro mischiano con quei sentiti all'estero la malagrande e in più c'è anche quella vena dark, poi ci mettono dentro i riferimenti finiti, la pizza, le hook, veramente c'è tanta roba dentro e lui ha avuto una musica assurda l'ultima volta li usano da stand di amamu e io c'avevo qualche una serata tempo dopo e quindi gli chiesi pure consigli su come sistemare l'attrezzatura, le cose, lui si ricordava comunque che mi aveva intravisto a quella lecce e quindi ci metteva a parlare abbiamo 10, cioè comunque mi piace il secondo piano perché penso a Napoli ci sono unici, ci sono veramente unici, a Napoli ma forse in Italia qualche altra cosa c'è tipo c'erano i Reb 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 Reb, fanno pure show kids e sono emiliani, poi c'è un gruppo vabbè che sta acceso io, ma queste non fatte mi ricordo quando ero piccolo, cioè nel periodo degli anni 90 mi presentavano ecco quegli amici che ho salutato a Berlino, un gruppo italiano non so comunque era proprio del nord, non so se la vedo, io lo vera, che faceva tipo all'epoca chiamavano i Amokoro, un'epoca hardcore soft, un misto punk melodico però sparato a mille quasi metal, poi erano studenti, si chiama gli Eversor e poi si sono sciolti ma proprio in questo gruppo sconosciuto italiano e cantano in che ma fanno troppo bello mi ha fatto anche curiosità, li andrò a seguire a me, è un misto di punk metal però melodico facciano che semero gli estrugeni, quelli quell'altri, i LLS che si sono belli, qua sono estrugeni ma al stesso tempo tirano, cioè la batteria a tatata tatata, cioè, sono bello, sono carico però sono quella tristezza dentro, si deve essere se lo vanno a compagnare, non riesce un altro bel progetto di l'usina del piano della zona, prima abbiamo parlato e straparlato del big buff, sono big bang, ma è vero, anche tu l'abbiamo conosciuto, si ascolta, saluta Alfonso, sono molto simpatica, molto piacevole, ma se l'abbiamo passato tutta la serata a parlare di pedale, di pedale, di pedale, facciamo una cosa ragazzi, adesso ci sentiamo l'ultimo nostro pezzo, dice, dice, i giorni, ah, si, ma tu hai da pazzi, e mettiamo subito dopo spacebagger, o no, facciamo livello di gaffe con suoi clienti, scusami, che mi ferderanno dai ragazzi degli schifold, cioè, vediamo dopo, e nel frattempo i ragazzi si preparano, ci è stato qui, non mi ha spiegato, però prima la spiegando anche a, si, più tempo, si vai dopo dopo, dopo lo spieghi, o adesso, no, no, dopo, spiega, poi dopo, spiegiamo, spiegiamo con la spiegazione di Ice, poi per un altro di succo, mi sembra giusto, allora ragazzi, noi ci sentiamo Ice, e torniamo qui tra qualche momento, sempre su www.radiobeano.it con Metro Rock, Grazie a tutti. 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 anche queste le domande. Poi dopo la canzone premio un'altra pica, perché poi perché si chiama AIS? Perché fondamentalmente volevo qualcosa che esprimesse freddo, comunque una situazione abbastanza graciale e infatti diventa il viaggio di un qualcuno che sta camminando appunto nel ghiaccio, nel freddo, entra vede tipo come una figura, un qualcosa di lontano, un fantasma, un qualcosa tra gli aldi di lontananza e lo insegue. E' quasi come se fosse una sirena, insegue questa figura, ma si sta andando sempre più a perdere. Forse in questo sono stato, ecco in questo sono stato influenzato da un bellissimo pezzo, sono The Turtle Forest, e c'era delle immagini simile, e la mia immagine non era solo il ghiaccio, una piana di ghiaccio, ma io immaginavo un terreno bianco di notte, qualcuno che sta attraversando questo posto, insomma abbastanza freddo, e la freddezza non è solo, perché in un certo punto si fa di freddezza fuori, ma anche dentro, cioè il freddo non è solo fuori, ma il freddo è anche quello che, magari è un concetto un po' banale, però è questo che vogliamo dire il pezzo. Sì, Johnny ha questo film di scrittura in cui trasforma molto le sensazioni in immagini proprio reali, e quindi usa molto queste metafore, questi paragoni, perché appunto crea un'ambientazione, racconta una storia, un film, quasi. Cosa, il mio pezzo preferito? Attualmente, di quelli che abbiamo ascoltato, il mio pezzo preferito è l'Habbit, però c'è un altro pezzo che stasera non ascoltiamo, perché ancora non abbiamo registrato, ce l'abbiamo finora, l'abbiamo proposto solo live, che è Broken, si chiama Broken, e sta in gara con l'Habbit per diventare il mio preferito. Un'altra domanda che devo fare, e qua divento il Domenico della situazione, perché anche se non ci capirò nulla delle vostre risposte, però devo dire, però Domenico da casa le capisce, Sì, Domenico di capisce, sarà contento, sarà pieno di me. Ragazzi, questi momenti già, è la vostra strumentazione. Buon acqua, aspetta, sarà breve. Aspettate un attimo, ti metti in pantofo, diventa comodo. Ti abbiamo dato tutto il tempo per prepararti il pezzo live, per prepararti un vero concerto. Allora, inizia tu, che ti è piaciuto. Sì, perché poi le mie risposte sono più facili, perché sono più semplici. Vabbè, io uso un basso che è un Ibanez replica di Fender Jazz Bass, perché è veramente un bel basso, che mi è stato regalato tantissimo. C'è un chitarrista dell'altro più pochi, che dice, a te la musica ti vuole proprio bene, perché mi arrivano queste cose, come i pedali che mi sono stati giovani, come l'amplificatore che ho usato fino a poco tempo fa, che mi ha dato un altro amico. E questo basso, che ha 17 anni, che è stato regalato dall'allora fidanzata di mio cugino, per cui vanno più contatti, c'è una persona proprio remota, che dice, ma tu sono il basso, mio fratello sono il basso, c'è un basso buttato giù al garage e te lo vuoi prendere. All'epoca io non sapevo neanche che cos'era questo, cioè, suonavo il basso, ma non potevo riconoscere la qualità dello strumento. A distanza di anni, oggi, so che ho avuto un regalo bello. Mi sa che manco lei poteva riconoscere. Ma lei non sapeva quello che mi stava regalando. E questo Marco, questo mio amico chitarrista, dice, a te la musica ti vuole bene, perché ti arrivano queste cose così. Per quanto riguarda l'effettistica, lo accennavamo prima, ho un po' di pedali prestati da Johnny, alcuni sono miei. fondamentalmente ho un chorus quasi sempre attivo, in quasi tutti i pezzi, è difficile lo spegno, come pure un SunSamp, questo è Johnny SunSamp, che crea proprio il suono base, che mi piace sia migliaia lì, che è molto sporco, molto distorto, ma non proprio Drive. come dire, è stato molto stato, molto stato, è stato dal bus, e poi c'è un flanger, un electric stress della ElettraMont, a lui basso, le cose più tecniche, il Big Buff, l'abbiamo detto, l'ha detto, il tradetto, ho usato prima un po' quello americano, americano, è adesso sempre suo, e adesso mi è passato quest'altro che è quello russo, l'onio, è l'edizione, è più cattivo, e soprattutto con l'americano avevo il problema, ma calma, assolutamente, gli passai, è come le figurine, diceva, c'è un po' più, vedete, per quanto riguarda il Big Buff, l'americano c'era un po' il problema, entrambi sono Big Buff per chitarra, non per basso, ma quello americano soffriva molto, le frequenze basse sparivano, quindi, avevo un po' il problema, che in determinate parti, dove volevo aggiungere, cattiveria, in realtà, il basso tendeva a sparire dal mix, con quest'altro qui, abbiamo risolto, c'è molta più potenza di sicurezza, si, ma c'è anche un overdrive, che però usa un po' di meno, perché è una cattiva, il San San Bernardino vi parlava a lui, è un pedaglino quasi mitologico, che oggi non esiste più, è usato, poi ha raggiunto potazioni altissime, perché che lo usava, calco bene e fare pericolo, pericolo, questi bambini, la situazione, la lei ti dà un super bello, è esaurito, ok, ma, c'è, non c'è una potazione a studio, e poi, infatti, la tua, va bene, che se no, è la fine, è la fine, è la fine, c'è un pedale, c'è, veramente un fatto che, non so tu, che si trova, ma, ti dice male, io invece, come chitarra, proprio preferita, che ne ho provate diversa, quindi mi sono sfermato, anche se io vorrei prendere una Jawa, un giorno, però, mo, sto usando una, 335, la Lipson, ah, ve l'ho preso usata, me l'ho venduta un'altra, a chitarre, mi sono presa questa, che io amo, sia perché, come, come ho dedicato il manico, sia perché, per quello che faccio, fa feedback assurdo, cioè, in Ciarà, sanno che, quelle casse, con che si è nusica, no, che si è nusica, ma, ma, è qualcosa di pazzesco, sì, a volte, in sala, ma, l'ambiente è piccolo, e, spariamo forte, il braccio è appoggiato, ho quasi intolaria, lo spostato, lo spostato dalla che esce dalle 22, cioè, è una tentazione, è una fantastica, poi, invece, come, come pedale, vabbè, no, meno e più, sarò breve, i principali, i Big Muff, ultimamente, ogni presenti, ogni presenti, ne ho preso, ho preso una replica, di quello verde, l'ho preso dalla Russia, da questo, i ragazzi che costruiscono questi pedali a mano, che, in pratica, avevano, la stessa componentistica, di quello che si usava, perché, cioè, qua si trova ancora qualche pezzo, qualche, e, mi sono visto prima dei video comparativi, ho visto che erano quasi uguali, a quello che è la prova, uguale a quello che l'originale, sul complotto, poi c'ho il memory man, il delay memory man, elettronom lives, che quello fa, è, un, direi, dattere去 nego, analogico, quindi c'ha la ripetizione, un po' sporca, la timodantina, non è quel, quel, direi, digitale, preciso, sì, direi, esatto, ma infatti è brevissimo sarà... perdonatemi ma io questa la devo dire ogni volta che sento di lei ecco a poter citare un pensate verde in amori di lei, poi che c'ho più, ho vari coli, ho lo small clone, poi come chorus uso quello, ho uno della bossy c3, poi altri pedali sono sintetize per fare delle ottave nelle parti un po' più cattive, sempre dall'elettro armonix ah poi c'è un riverbe della digite che c'ha, dei riverberi a studio, quando lo mettono così mi scadano al di lenz a favore sei un po' pentita della tua domanda, avete capito? benissimo! ok andiamo avanti, diciamo questa è la... diciamo c'è un'astronave, la tarina di Johnny è più pesante del mio amplificatore ha dato aggiunto piano, uno strappo a braccio non per i caldificatori ma per la preparazione, infatti la sua preparazione te l'hai dì che domandava infatti io lascio palestra per portare... io faccio un'ultima domanda poi sei ragazzi sono pronti possono fare... io sento che devo fare un'altra domanda, voglio sapere un po' dove possiamo venire via ad ascoltare i live perchè so che avete anche una serata piuttosto particolare, ad ascoltare, giusto? infatti sì, allora domani per chi insomma si trova nei paraggi siamo all'albumera una rassegnata, ci siamo non solo cantatori, ci siamo al marabù che sta vicino... potresti venire perchè troveresti anche dei cantatori che ci fate? non solo cantatori perchè noi siamo in non solo noi siamo in non solo noi siamo in non solo cantatori e in non solo siamo noi e quindi suoniamo all'albumera e 10 e mezza in poi se volete siamo all'albumera invece una serata particolare quella esiterale sabato 14 ottobre a Stella Art Theory è una serata in onore di Ian Curtis e Jason quindi sono stati chiamati vari gruppi alternative dark wave, showgaze, novi spin, rock eccetera eccetera quelle parole che abbiamo già usato queste parole di cui abbiamo parlato tra cui Stella Diana, Iargine, Iafax, il Stunt Lake e la TVT Asia di Napoli, Caserta eccetera eccetera e in pratica andremo là e suoneremo sia cover e Geo Division però fatte ovviamente ogni nuovo proprio stile interpretate che sia un inedito nostro il nostro portiamo l'albumente ne portiamo l'albumente anche che è lungo così scherziamo che non penso vediamo quindi dobbiamo assalare tre ore a parte centrale venti minuti vado in bike si è per me e per noi comunque è un onore perchè appunto ci sono cresciuto è un gruppo che io amo e io penso che Ian Curtis sia uno degli ultimi poeti rock che chiamavano rock comunque che ci siano i testi suoi che a me sono veramente sono poesia non ho trovato qualcosa di parabile vabbè sono limitato magari non me li ascolto tutti non lo so però quando vedo i testi suoi vedo un ragazzino di venti o venti anni che scriva con tale profondità penso di non averlo mai visto direi che è vinto il momento del live signor di ferie allora questo pezzo spiegamo il pezzo del suo personale che ho reso allora il pezzo del suo personale si chiama starlight che tra l'altro è si 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 questa è la hit di Diana B ah ecco c'è da dire lui non ci può passare questa cosa ma praticamente quando andiamo a un live oppure facciamo sentire questi pezzi quello che ci viene detto dopo al 90 per cento ma com'è bella starlight andiamo a un live tornano mamma ci fate starlight cioè starlight è un bel pezzo mi piace però per me non è il migliore dei pezzi ma eh perché lui facciano quelli la più più cazzati più cazzati perché sempre il suo retaggio la ballad cos'è eh sì il pezzo è un po' più sognante esatto radio friend no così forse è più sognante siete venduti lo sappiamo al Messi si solo che dura sei minuti e passa il ritornello arriva dopo tre minuti esatto c'è sempre strumenti da porto in un canto e diciamo in occasione della ah di cosa parla parliamo 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 delle stelle parliamo delle stelle vabbè Brand anche questo è diviso in due parti diciamo una parte spiega parla io ero fuori non ero qua ero al nord passeggio avevo il pezzo già scritto ma non tenevo le parole pensate ma io devo parlare poi pensavo questa canzone non so perché mi suggerava qualcosa appunto mi diceva lui un ambiente così come labirinto un labirinto qua pensavo comunque a qualcosa di le stelle no camminavo guardavo in cielo e vedo le stelle ho pensato a varie cose anzitutto la sensazione di passeggiare da soli in un posto che non conosci sei solo tu e cammina e quindi sempre rifletta a me poi vengono queste cose riflette riflette su di me sulla mia vita eccetera ho iniziato a scrivere e poi ho pensato alle stelle praticamente questa canzone parlare dei sogni impossibili comunque non impossibili ma di quello che comunque noi abbiamo come le stelle ci osserva ci è vicino non lo possiamo osservare ma non lo possiamo toccare ci può guidare ci può dare luce ma non riusciamo mai a raggiungerlo quindi è un qualcosa da una parte ci conforta ma da un'altra parte può essere anche fonte a volte di frustrazione e dolore che ci può far sentire tanto piccoli esatto esatto e quindi stai a letto parlare stai a letto parlare di questo e in più una volta ci capiva un'occasione in cui dovemmo fare in acustico e io non sapevo la parte finale è tutta una solo infinito mi pareva brutto perché è brutto che un pezzo finisce troppo presto dopo prima dei quattro minuti allora ci ho aggiunto un'altra parte ancora che sentirete stasera che in genere non faccio un'interazione elettrica che è cantata ed è ed è una parte forse un po' più romantica l'ultima parte sì è una parte romantica che ci ho voluto mettere che è la penso in vita mia l'ho cantata solo una volta l'altro questa è la seconda quindi per voi questa questa esclusiva questa chicca questa chicca questo momento di romanticume speriamo che si imbaia direi che in questo momento quando siete pronti per farvi il voto e io io perdonami un attimo chiedo intanto scusa io a tutti quanti perché io sono un bassista non sono un chitarrista ah esatto per l'occasione abbiamo fatto anche questa questa setta acustica quindi abbiate che siamo preparati ieri in macchina sua seduti che non avevamo dovuto provare anche una situazione simpatica se riusci a portare effetti pure qua ah ma siamo anche ripresi dicendo quando possiamo grazie quando volete ah ma io l'ho accordato questo è una bella notizia questo viene cancellato certo poi ci lavoriamo non ti preoccupare perché ho detto dopo 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 e poi dopo e poi dopo parla 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 dove è diventato uno questo così al centro mi ricordo nel frattempo mentre i giorni accorda che la puntata sarà disponibile domani sul nostro canale youtube ed anche il video live sarà disponibile sempre domani sul nostro canale youtube per la gioia di giorni se ne davamo scurata qualche hacker dell'fbi della città ma dire che si può fare grazie quando volete prego parto e parto e parto e per la gioia di 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti